Prima uscita dei loro hangar per i quattro giganti di carta pesta, i carri allegorici del carnevale di Fogliano della Chiana. Tanta l'emozione di tornare a godere della manifestazione senza restrizioni dovute al covid come invece era successo negli ultimi anni. Domenica 5 febbraio sono così iniziate le celebrazioni della 484esima edizione di una delle manifestazioni più antiche d'Italia, soprattutto in assoluto il carnevale che vanta più storia. I quattro rioni si sono sfidati come sempre con i quattro carri allegorici. Il cantiere degli azzurri ha presentato il monello, una raffigurazione di Charlie Chaplin, cineasta che ha messo in ridicolo la sua epoca grazie al suo cinismo e che oggi torna come immagine della vara ed egoistica visione dell'uomo. Il cantiere Bombo l'ha proposto l'opera La Bestia Dentro, una raffigurazione del viaggio dell'uomo attraverso il mare, inseguendo ciascuno la propria balena bianca, ovvero il sogno disturbato dalle difficoltà quotidiane. Il cantiere dei Notambuli ha poi portato in scena diverso da chi con l'allegoria della storia di Hernán Cortés che stringe tra le mani la testa di Moctezuma, il conquistador e incastrato tra due astronauti, simbolo del progresso. Infine il cantiere dei Rustici ha presentato il carro Amore Guerra, ripercorrendo tramite la commedia di Aristofane la storia di Lisistrata come allegoria dei nostri giorni, la figura della donna come progresso dell'uomo. I corsi mascherati andranno avanti per cinque domeniche fino al 5 marzo, quando sapremo il nome del vincitore.